Da questa settimana l'ERIC è in vigore un'ordinanza per regolare la fase 2. Che cosa si può fare e che cosa non si può fare? Ma diciamo intanto bisogna essere responsabili. La fase 2 non è il problema è finito e non c'è più il problema del contagio. Il problema del contagio c'è sempre, occorre muoversi responsabilmente capendo che siamo sempre in quarantena e quindi tutti gli spostamenti che sono autorizzati sono autorizzati nel limite della utilità che hanno. La camminata, la passeggiata è finalizzata a mantenere il corpo in salute, non a fare una gita domenicale a l'ERIC. Per questo che con la mia ordinanza ad esempio ho vietato di attraversare i centri abitati perché se qualcuno da Spezia si sposta a l'ERIC per fare un giro in via Cavour o visitare Tellaro questo non sarà ammesso salvo che qualcuno non intenda andare ad un'attività commerciale che è all'interno del paese. ma la semplice passeggiata non autorizza quindi ad attraversare i centri abitati oppure ad utilizzare le panchine perché queste sono attività ludiche che il decreto Conte vieta. Il decreto Conte dice potete uscire a fare attività motoria mantenendo le distanze e senza svolgere attività ludica. Nel Borgo ci sono tante attività, tante piccole imprese, negozi, attività di eccellenza, ristorazione. Ecco bisogna stare vicini e sostenere, prendere dei provvedimenti per sostenere tutte queste attività. Allora noi abbiamo già al vaglio lo studio di parecchie soluzioni sicuramente stiamo anche ragionando per una riduzione di quelle che sono le imposte comunali però è chiaro a tutti che la prima parola aspetta il governo noi non possiamo prendere decisioni che poi possono essere smentite o disciplinate in altro modo dal governo pensiamo solo che noi abbiamo da rispondere ad un patto di solidarietà che ci comporta una spesa di quasi 6-7 milioni di euro da mandare a Roma quindi vogliamo capire anche di questi soldi cosa dovremmo fare. Comunque abbiamo già fatto, sono già usciti due bandi per gli assegni alimentari per le famiglie grazie anche al contributo di 500 mila euro del famoso, ma è noto, Magnate russo e questo è una soddisfazione forte perché dimostra l'affetto che queste persone hanno per il nostro territorio quando io parlo rispetto alla gestione del parco e di tutto il resto che l'attenzione per l'erici deve essere rivolta anche a questo tipo di fruitore del territorio lo dico a ragion veduta e questo non è la prova concreta.